siamo a napoli a ripubblica delle idee questa è la prima uscita pubblica di antonio scurati dopo la censura in rai e il post di giorgia meloni il gruppo dirigente post fascista vinte le elezioni nell'ottobre del 2022 aveva davanti a sé due strade ripudiare il suo passato neofascista oppure cercare di riscrivere la storia ha indubbiamente imboccato alla seconda via perché non è andato questo monologo di scurati se non c'era un tentativo di censura cosa è successo davvero questo andrebbe chiesto a scurati ea chi se ne è occupato dentro rai non abbiamo non siamo come la sinistra che controlliamo in modo sistematico i gangli della televisione e ci sono i dirigenti hanno fatto loro scelte ma non c'era volontà di censura da parte del centrodestra di meloni tant'è vero che la meloni è la prima che ha pubblicato il testo perché gli italiani possano giudicare liberamente il contenuto buona lettura segue il monologo di scurati cosa c'è dietro questo post di giorgia meloni una grande arrabbiatura dietro le quinte con gli artefici di questo pasticcio perché tutto coinvolge sempre la leader anche se lei vorrebbe rimanere fuori invece cade sempre una una pietra d'inciampo e arriva sempre dai suoi leggo dai giornali che c'era una questione economica che a quanto pare lui c'era l'accordo per farlo gratuitamente ma lui gratuitamente non voleva difendere le sue idee partigiane gratuitamente il punto non è il minuto in cui va in onda il punto sono i 50 anni precedenti in cui uno ha studiato una cosa perché per essere efficace in quel minuto antonio scurati ha vinto uno strega scrivendo un libro su mussolini antonio scurati sa e ha studiato che cos'è il fascismo che cos'è l'antifascismo finché quella parola antifascismo non sarà pronunciata da chi ci governa lo spettro del fascismo continuerà ad infestare la casa della democrazia italiana io non ho capito qual era il contenuto editoriale che non andava bene per la televisione pubblica visto che siamo in una in una repubblica nata con un principio di antifascismo e ovviamente impedire a qualcuno di parlare è un comportamento fascista questo non ha a che fare con la persona di antonio scurati ha a che fare con ciò che antonio scurati rappresenta in questo caso uno scrittore chi sono i protagonisti di questa vicenda beh sicuramente c'è paolo corsini che è un giornalista parlamentare lavorato anche per radio rai animatore recentemente del sindacato unirai che sarebbe il sindacato di destra che nasce in contraposizione all'usig rai è già noto alle cronache politiche perché l'ultima festa di atreio intervenne prese la parola parlò di noi in quanto di noi patrioti di noi di fratelli d'italia poi c'è giampaolo rossi che è la veramente e anche quella più scaltra è da sempre l'uomo di giorgia meloni il rai prodotto culturale di colle oppio trasversalissimo stimato anche a sinistra è il direttore generale chi è invece questo personaggio sergio è invece la di figura di cerniera nella rai meloniana uno che ha vissuto tanti stagioni ha ballato tanti waltzer conosce la macchina ha fatto trapelare appena scoppiato il caso un po di risentimento dicendo che cattivi dirigenti mandano a sbattere l'azienda si potrebbe pensare come scriva per paolo pasolini che in fondo non c'è bisogno che chi governa dica cosa può essere fatto cosa non può essere fatto ma bastano piccoli cenni è un'aria in qualche modo la censura sicuramente la censura è quell'epistemologia dove le risposte o le asserzioni che danno fastidio si suppone di a fastidio a chi comanda non possono essere né dette né date è doloroso che nel 2024 succedono queste inquietante per quello che potrebbe accadere ancora ridicola penso questo non è che c'è il diritto qualcuno ha il diritto naturale di andare in televisione senza contraddittorio nelle ore di massimo ascolto la democrazia è salda perché si fonda sulla costituzione e non sul monologo del professore o quello che è scurati tu privato cittadino che ha l'unica forza delle sue idee del suo studio delle sue conoscenze ti senti sottoposto a un peso che è schiacciante ti stanno disegnando un bersaglio attorno alla faccia e poi magari qualcuno che mira quel bersaglio c'è mi sembra una sinistra non spiritoso ma spiritista evocano con il piattino degli spettri che hanno solo loro in mente quindi mi sono svegliato una mattina che era il 2024 mi sono piombato nel 1924 incredibile notifico sommessamente a lei che è una tentacronista che giorgia meloni è nata nel 77 io nel 76 e che si aggira il medesimo spettro del cesarismo e del buonapartismo fermiamo questi spettri io sono contro il fascismo ma non contro qualsiasi contro qualsiasi che mi vorrei fare parlare contro qualsiasi tipo di dittatura il fascismo l'abbiamo avuto in italia quindi ha pesato di più ma abbiamo avuto tanti tipi di dittature nel resto del mondo io non le condivido il fascismo non è un'opinione politica il fascismo in italia è un reato e la costituzione italiana è antifascista cosa si augura per questo 25 aprile che ci ricordiamo in qualche modo che sono morte delle persone per garantirci la libertà di dissentire e che in memoria di quei corpi dobbiamo ricordarci di dissentire